E' il tintinio delle campanelle di Sant'Egidio, molto caro ai lancianesi e che resta nel cuore di chi non vive più nella città frintana. Quel tintinio caratterizza una delle feste più amate, la fiera di Sant'Egidio o delle campanelle o fiera del giocatolo che si svolge ogni anno il 31 agosto. Campanelle, giocattoli, tegami in terracotta e soprattutto in passato tantissimi cestini invimini realizzati dagli artigiani. Questo perché la tradizione voleva che la sera di Sant'Egidio il fidanzato regalasse alla fidanzata un cestino e lei contraccambiasse con la campanella per suggellare il loro amore. Col tempo la campanella è diventata simbolo dell'amicizia ed è quindi ormai abitudine scambiarsi campanelle con parenti ed amici. Inizialmente erano di terracotta e molto semplici, col tempo e con la fantasia degli artigiani sono diventate di mille forme e colori. È facile trovare campanelle dai temi più originali, ispirate alle fiabe, ai cartoni animati, allo sport, colorate, decorate, piccole, piccolissime, grandi, ma una cosa è importante, devono avere un suono squillante. Un assortimento sempre più ricco per una fiera che richiama persone da ogni parte che le prendono per collezionarle. Tantissima la gente che ieri, nonostante un po' di pioggia nel primo pomeriggio, fino a tardi ha affollato Corso Trento e Trieste e Piazza Plebiscito. Con la fiera di Sant'Egidio si cominciano ad entrare nel clima delle famose feste di settembre lancianesi in onore di Maria Santissima del Ponte, Santa Patrona. L'8 settembre ci sarà la tradizionale sfilata dei donativi, mentre il clou dei festeggiamenti ci sarà nei giorni 14, 15 e 16. Da segnalare la caratteristica apertura delle feste con i fuochi pirotecnici incendiati alle 4 del mattino del 14 settembre. Per gli spettacoli ci saranno musica sfilata di moda, il 15 sera Donatella Rettore e per la chiusura il 16 Loredana Bertè.